L'emergenza siccità non si placa ma contestualmente continua anche la ricerca di soluzioni per salvare la campagna. Quattro pozzi, attingimenti dall'arda e un lago da realizzare entro il prossimo anno è quanto ha ottenuto per la Valdarda il Consorzio di Bonifica di Piacenza nel nuovo incontro del tavolo istituzionale della regione per l'emergenza idrica che si è svolto nella giornata di ieri convocato dall'assessore Paola Gazzolo. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha ottenuto il finanziamento della realizzazione di quattro pozzi dell'area della Valdarda che va dalla fascia di Alseino fino ad arrivare alle zone alte sotto Castellarquato. Chiaramente abbiamo già avviato l'indagine conoscitiva per sondare quanta e come sia la disponibilità della risorsa sotto per poi avviare la realizzazione definitiva dei pozzi. Si è parlato ieri anche della realizzazione di un lago in Valdarda. In Valdarda abbiamo previsto questa realizzazione di un lago perché ci metta nelle condizioni di dare flessibilità a tutto il sistema distributivo e possa cogliere l'occasione, come si è manifestata quest'anno, di raccogliere le piovosità che avvengono a volte nella fascia bassa del territorio e non nella parte più alta che normalmente raccoglie le precipitazioni invernali. In una situazione che resta di emergenza, Zermani plaude la solidarietà manifestata dal territorio. Ad esempio, diversi privati hanno messo a disposizione i loro pozzi per l'agricoltura. Credo che quello che ha bisogno di riconoscere da parte del territorio è questa grande volontà di lottare per portare al miglior compimento la Nata. Grazie. 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 Grazie.